La cittadinanza ha la possibilità di vedere come era il Colle del Pionta in ricostruzione 3D, in particolare il Duomo Vecchio. I risultati ci sono stati perché abbiamo rinvenuto le fondamenta del Duomo Vecchio e il sepolcro di San Donato. Sacre Macerie, Arezzo torna al Pionta. Questo è il titolo della mostra per fare il punto sugli scavi e gli studi alla cittadella Vescovile del Colle del Pionta, oggi uno dei polmoni verdi più belli di Arezzo, un tempo la città antica. Una documentazione digitale per riassumere le varie fasi del complesso mediante modelli tridimensionali di ricostruzione. Lo scopo degli scavi e della mostra è di iniziare un percorso di recupero del sito archeologico riportandolo nel cuore della città contemporanea. Quindi mettendo a disposizione questi ambienti, questi locali, peraltro in una piazza bellissima, intendiamo in qualche modo rafforzare tutti i legami con le attività culturali del territorio e dare in qualche modo il nostro contributo per far volere le sinergie per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Ci sono delle ricostruzioni multimediali che presentano quello che abbiamo investigato, studiato, analizzato su questo spazio particolare della città di Arezzo. È un luogo ricco di mistero, di enigmi perché la distruzione totale, antica, ha fatto sparire tutte le costruzioni, comprese le mura. Grazie. Grazie. Grazie.